Allora, ecco Ah, si sposta sta merda È un tronco, Dio santo Come fa a spostarsi un tronco, vabbè Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Sono FaviJ Si sta alzando il vento, quindi Eh, va bene Devo muovere il culo Sono FaviJ e siamo in un posto bello Vi spiego un attimo come Che cosa diavolo ci sto facendo qui Allora, siamo a Venezia E sono stato invitato da Sky per Parlare ai Capi grossi Di tutte le tv del mondo Che si riuniscono tipo una volta l'anno In una specie di resort Credo sia un resort Siccome non ci sono arrivato volando Vi faccio vedere come ci sono arrivato qui Perché ovviamente ho vloggato tutto Bon voyage Bonjour ragazzuoli belli Siamo, qua c'è l'acqua No, seriamente siamo a Venezia E stiamo per salire in barca C'è anche lui che mi sorride Nel mentre che sto facendo vlog Bella Stiamo per salire in barca In this moment Salve Ah no, devo salire Ok Grazie Si può andare qua sotto Che figo Sembrano privè di quelli dei DJ No vabbè ragazzi E' bellissima A parte che mi sono portato le cuffie da gaming Poi veramente il signore che mangia la banana Bella a tutti ragazzi Lui era triste Passa la testa Ah perché micchia andiamo a sbattere Oddio Micchia quanto siamo passati i bassi Oh ma qua un metro in più eravamo morti Porca puttana No vabbè Ora lì che c'è la porta Che da verso il canale direttamente Cioè uno si sbaglia ad aprire Apre per caso e finisce giù Salve Siamo arrivati ragazzi Sull'isola privata di sto cazzo Si vabbè raga E tutto questo è un'isola Conce l'ha portato un trattore su un'isola E' cresciuto Veramente La cosa che mi fa impazzire di più E' che questa è una cazzo di isola Cioè nel senso dopo sto muro Tipo l'attacco dei giganti Non c'è un cazzo C'è il mare E' una cosa stupenda C'è un cancello chiuso Con l'antifurto Ma che cazzo mettono l'antifurto Che c'è il mare Boh Lo zerbino Cioè io non riesco a concepire La roba che c'è Una cazzo di coso qua E poi c'è il mare Il coso E il mare Il coso E il mare Il coso Ma poi che cazzo Se ne fanno di un cancello Cosa deve entrare Una macchina qua Subito c'è il mare Subito dopo Wow Troppo figo Ok ragazzi Come mio solito Siamo arrivati nell'hotello Non ho potuto riprendere nella hall Perché ci stava gente Mi vergognavo Questa è la mia stanza Questo è il mio numero Così venite a trovare Tutti quanti stanotte Facciamo il mega party Comunque sia Bello Permesso Il cesso è già acceso E va bene Quanto bello Ci sta C'è C'è la vista così Veramente Cos'è che lì ci sono le pastiglie Per il mal di mare Ma cos'è sta roba Cos'è Ma è mio Perché c'è scritto Favij Un regalo È un regalo Di chi È un regalo Che ti hanno fatto Ma chi me l'ha fatto L'hotel Tieni ottimo No l'hotel Non so quanto gliene frega L'hotel di te Cos'è sta roba Mi hanno fatto una sacca Con scritto Favij Che tipo Witton mi fa una pippa Micà Aprila È talmente grande Che ci stai dentro anche te Prova andare dentro Che bello Aspetta Stai così Stai così Allora Fai un passo avanti Un passo avanti Come ci sono Salve Avemus Papa Avemusca Eh va bene Micà sono appena arrivato Chi è Paris Hilton Oh Io non ce l'ho con la vista Di figlio di puttana Non ho capito Dimmi Io non ce l'ho con la vista Di figlio di puttana Eh che cazzo vuoi Io sono più bello Io vedo Pezzettino di laguna Pure sporca Bravo E vedo anche il tipo Che sta guardando Youporn Su suo cellulare Ah va bene Come hai fatto a chiamarmi Che ti chiamo anche di notte Eh non te lo dico Grazie brutto stronzo Ci vediamo dopo Ciao Bella Ragazzi il televisore È bellissimo C'è scherzo Hello Ostuni virgola Lorenzo We hope you enjoy You stay with us Grazie Paris Il mio letto è sempre libero per te A parte per il mio telefono Perché lui mi si adagia sempre sul letto Perché vuole il sesso Guarda Paris Non avevo proprio dubbi Che la tua barca fosse quella C'è veramente Non avevo un cazzo di dubbio C'è ma dai Regà Comunque ragazzi Stavo per andare a farmi La vasca da bagno Perché c'è una vasca da bagno Nell'hotel Non ce l'ho manco io a casa E Sì sono in Allora ragazzi Che Che cazzo Che ci crediate Ma veramente Ve lo giuro La presa del bagno Non funziona Devo asciugarmi i capelli Così Con l'ascella Cioè io veramente Sto usando la fotocamera Per asciugarmi i capelli Perché non andava Il fondo in bagno Ma dio Come cazzo si fa A non far funzionare La presa del bagno Paris Hilton Sonde sto cazzo Che cazzo Saluti Ma vaffanculo Lo sentite Desse rumore Ragazzi Di campanelline Che Che fanno Din inne Ecco Tutta questa bella gente Che sono tutti I boss Delle televisioni Quando c'è la conferenza Che appunto Tutti fanno Sto meeting Che io ho già fatto Sono tutti lì Ad ascoltare Poi fanno un break ogni tanto e vengono qua in giardino quando li devono richiamare dentro non è che li chiamano e dicono we are ready, no no, fanno suonare le campanelline di sto cazzo, come le mucche ho appena caricato un video su instagram non si vede un cazzo, va bene bella la connessione che c'è sulle isole utile primo mi piace, grazie grazie Kevin ma sei un cane Kevin stiamo aspettando che esca Simon Cowell sarebbe colui che ha scoperto in One Direction più che scoperto, lui l'ha assemblato è colui che ha assemblato in One Direction e che adesso assembleranno una nuova boy band composta da me e lui ok ok all your work thank you, that's very good thank you so much ok, it's good ragazzi c'è una serata di gala io non dovrei registrare mai nella vita però lo faccio lo stesso perché lì vabbè con lo schermo però non ci freddo mai dai vaffanculo veramente che sfida perfetto ragazzi siamo in piazza San Favij c'è anche questa cattedrale grossa questo è più di pai è veramente fighissimo ragazzi e poi andiamo a casa non compriamo ti vanno i voti non ti si può stappagare non in case a pagare non ti non posso pagare non ti può comprare una cosa ah the fuck a say what che vogliamo Ciao Voglio fare anch'io un segno Per salutare su snapchat Ciao snapchat Guardiamo se l'ho messo in giù Ciao Ciao Erano i fan di Benji e Fede Ah di Benji e Fede E hanno sbagliato E' grande Grazie Ciao arrivederci Che bello questo negozio di giochi Di spade Spiderman Ma che cazzo Arriga Gora caccia ma Quindi ragazzi Questo è stato il mio trip a Venezia E' stato troppo figo Il fatto è che non avevo mai visto Venezia in vita mia davvero E' stata la prima volta in vita mia a Venezia Veramente io non credevo che fosse così bella Me l'aspettavo bella Ma non così tanto giuro Comunque si ragazzi C'è un altro argomento del quale vi vorrei parlare Che è un vlog infinito questo sabato Sta per uscire il 29 giugno Uscirà il film di Ratchet e Clank Dal 29 al 3 luglio Poi non lo danno più perché è un film evento E nel film di Ratchet e Clank ci sono io che ho doppiato un personaggio Che anche se ha poche battute è un figo Perché l'ho doppiato io Bene Vi avevo già fatto vedere la scena del doppiaggio nell'altro vlog Però me ne hanno date altre Quindi posso farvene vedere altre Vi lascio questa Aspettate che Posso fare tipo una reaction Siccome ancora Io vi giuro che non l'ho ancora vista Ok aspetta ho deciso adesso Faccio una reaction Reaction in live Certo che Tra l'altro Questo qua era il backstage Io doppio Zed Che è un robottino Simpaticissimo E ha degli sbalzi d'umore incredibili Che mi rappresenta un sacco Questo definitivamente mi rappresenta un sacco Perché sono proprio io Possiamo scambiarci posti ora? Mi fa morire da ridere Un paio di volte mi sono bloccato in doppiaggio Perché mi veniva da ridere Ad ascoltare la battuta originale Mica non avete idea Ma se non ha nemmeno la mia e-mail È spacegangs72z.com Sono veramente contento di aver scelto lui Soltanto in fondo al cuore Per il resto lui è Vivissimo Questa era una delle mie scene preferite Raga è bellissima Questa è bellissima È una delle mie preferite in assoluto Cioè veramente io me la rivedrei Giuro all'infinito Per il resto lui è Vivissimo Cioè quando ho visto Dai zitto Quando ho visto quella originale Stavo cadendo veramente per terra da ridere Perché è geniale Il film in sé è geniale Poi ci mi sono anch'io quindi Aspettate Aspettate Spiacente Te scriverò un'eccellente lettera di raccomandazione Oh mio dio è bellissimo Ma se non ho nemmeno la mia e-mail È spacegangs72z.com Io ho detto Perché qua era un macello La mail è veramente Spacegangs72z.com Ho dovuto veramente dire sta roba Questa parte è bellissima ragazzi Stupendo Ciao Prima che cominciate a farmi delle domande È importante che sappiate che io sono fedele al mio datore di lavoro Ed è così che ho scoperto di essere intollerante all'attosio Sebbene credo che il papagallino sarebbe morto comunque Perché continuava Non lo farà cadere Questo doveva essere un lavoro temporaneo Mentre avviavo la mia carriera di cantante Ah ok Ok Che poi la mia carriera di cantante non è il massimo della vita È meglio che io non abbia avviato la mia carriera di cantante Sono più contento così guarda Comunque si ragazzi io volevo veramente spendere due parole Per la gentilezza e l'incredi-ma incredibile professionalità di quest'uomo Che state vedendo che sto abbracciando Si chiama Massimiliano Alto Ma è- che dal nome magari non lo conosce nessuno Ma è tipo la voce di Aladino Per farvi un esempio così eh Quanto ho gesticolato in sta scena È stato veramente- se non fosse stato per lui Non sarei riuscito a doppiare nemmeno mezza Ma neanche mezza scena Fare il doppiatore è- è difficile Cioè è un lavoro e io non sono un doppiatore Quindi è veramente un casino Anche se ho fatto dieci battute che sono veramente poche Quindi non va ad intaccare niente Non sarebbero mai venute così se non fosse stato per lui Che ha fatto veramente un lavoro della madonna È veramente un fenomeno Volevo dedicargli questi secondi per ringraziarlo Veramente di cuore Me lo sposerei Se non fossi uomo E se non fosse probabilmente già sposato Vabbè Comunque sia ragazzi Io il film personalmente l'ho già visto Perché me l'hanno già fatto vedere in anteprima Spero veramente che vi piace Ci abbiamo messo veramente tutto l'impegno possibile Ricordo ragazzi che è nei cinema soltanto dal 29 giugno al 3 luglio Quindi fatemi sapere se andate a vederlo Ovviamente fatevi delle foto su... Non so parlare Mettetele su Instagram Così vedo quanti di voi sono andati a vedere il film Ovviamente taggatemi Sono... come cazzo Faccio a vederle Come al solito se vi è piaciuto lasciate un commento E un mi piace Anche la pagina di Facebook E come le mie video trovate nella descrizione Se non siete giustiti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video Mi si è staccato il pezzo dietro del telecomando Spero non succeda Rechet nel film Il che potrebbe essere grave Preparatevi per un'avventura spaziale Bella ragazzi Grazie